Benvenuti all'ultima edizione del nostro telegiornale. La Conf Cooperative Molise ha presentato il progetto socializzazione d'impresa per salvare la filiera avicola, creando quattro cooperative che beneficeranno delle misure di sostegno per il comparto agricolo e industriale. Intanto nel pomeriggio il governatore Frattura ha incontrato il presidente nazionale di Conf Cooperative Gardini, mentre i lavoratori dell'incubatoio hanno incrociato le braccia. Sentiamo Giovanni Minicozzi. La proposta di costituire quattro cooperative rispettivamente con lavoratori, allevatori, trasportatori e settore commerciale, coordinate tra loro per equilibrare avanzi e disavanzi di gestione, era già stata prospettata al tavolo tecnico nazionale dal presidente Frattura come possibile soluzione definitiva della vicenda Gamme Solagrital. L'ipotesi è stata approfondita nei giorni scorsi tra la Conf Cooperative che l'ha proposta il direttore generale della regione, Antonio Frangioni, e quello della FIM Molise, Lorenzo Cancellario. Il progetto di socializzazione della filiera vicola molisana oggi pomeriggio è stato presentato alla stampa. Noi stiamo proponendo un modello, peraltro già visto parecchi anni fa in Germania, ma anche in Italia e in altre aziende, che prevede sostanzialmente la partecipazione del lavoratore alla vita dell'azienda, anche da un punto di vista del capitale, quindi un apporto di capitale personale. Ovviamente nel caso specifico, tengo a sottolineare, è stato già previsto una maniera di finanziare tale apporto. Convinto del suo progetto anche Domenico Calleo, presidente di Conf Cooperative Molise. Non dimentichiamo che in Molise abbiamo moltissime cooperative, però sono micro imprese. Questo è il modello che invece vorremmo noi attuare in una grossa impresa, in una grossa filiera. L'impegno sarà quello sicuramente di assistere e di monitorare tutto il percorso, mettere a disposizione di personale qualificato tutta la filiera, mettere a disposizione il sistema bancario, perché all'interno della nostra rete ci sono le banche di credito cooperative che sicuramente potranno dare un grosso impulso. E non dimentichiamo poi che c'è il sostegno di Conf Cooperative Nazionali attraverso il presidente Gardini, che è anche il presidente di Fedagri, che proverà a contattare le nostre grosse cooperative nel settore dell'avicolo per portarli qui in Molise e vedere in che modo si possono intersecare con questo piano industriale. Abbiamo bisogno di tutti, sia la parte politica, sia la parte istituzionale, sia la parte sociale, ma soprattutto quella dei lavoratori, di credere in un progetto che può praticamente determinare il loro futuro e dell'economia regionale. E nel pomeriggio il presidente della regione Paolo Frattura, insieme ai parlamentari del PD Roberto Rute e Danilo Leva, hanno incontrato a Roma proprio il presidente nazionale di Conf Cooperative Gardini, ma le difficoltà alla gamme continuano. Dalla mattinata infatti hanno incrociato le braccia i 30 lavoratori dell'incubatoio che potrebbero interrompere il ciclo della filiera per mancanza di pulcini. L'ex governatore Michele Iorio, sospeso dal Consiglio regionale per effetto del decreto liste pulite, resta al momento ancora fuori da Palazzo Moffa. I giudici del Tarmolise infatti hanno depositato la sentenza nella quale è indicata una carenza giurisdizionale sul ricorso presentato dallo stesso Iorio con il quale chiedeva l'annullamento della delibera del Consiglio regionale che lo aveva sospeso dall'incarico. L'ex governatore, difeso dall'avvocato Umberto Colalillo, aveva puntato tutto sulla illegittimità del decreto Monti, ipotizzando profili di incostituzionalità. Contro Michele Iorio si sono costituiti l'avvocatura dello Stato per conto della regione e del Ministero dell'Interno e l'esponente di progetto Molise, Nicola Romagnolo, che ha preso il suo posto in Consiglio regionale, difeso dagli avvocati Pino Ruta e Margherita Zezza. Concluse le indagini della Corte dei Conti e della Guardia di Finanza sulle spese allegre dei gruppi consigliari regionali, la Commissione Anticorruzione, guidata da Vincenzo Musacchio, ha iniziato una raccolta firme per intraprendere una class action. Sentiamo Manuela Iorio. Gestione dei fondi pubblici e gruppi consigliari. Finite le indagini della Guardia di Finanza relativa agli anni 2010-2012, che hanno svelato una gestione irregolare dei rimborsi, tanto da ravvisare i reati di appropriazione in debita e di peculato. Ora tutto dipende dalla Procura di Campobasso, che ha ricevuto il voluminoso fascicolo delle fiamme gialle, a cui pochi giorni fa si è aggiunto anche il risponso della Corte dei Conti, che ha indagato sullo stesso argomento e il verdetto è stato identico. I rendiconti presentati dai gruppi sono irregolari e mentre c'è attesa per le iniziative che prenderà la Procura, c'è già chi, come la Commissione Regionale Anticorruzione, si sta adoperando per intraprendere una class action, un'azione collettiva a difesa dei diritti dei cittadini. Noi sicuramente, se ci sarà il processo, ci costituiremo parte civile e abbiamo intrapreso anche un'altra azione di natura civilistica, che è la class action. Ovviamente la class action presuppone che ci sia una grossa adesione dei cittadini, di conseguenza questa dipende molto dai cittadini molisani e dal numero di adesioni che riceveremo sulla class action. Se non ci saranno molte adesioni, sicuramente noi ci costituiremo parte civile come Commissione Regionale Anticorruzione. Come farete a raccogliere le adesioni? Avete qualche iniziativa? Sicuramente la principale iniziativa è quella, purtroppo, telematica, perché noi non ancora esistiamo come organizzazione sul campo. Quindi c'è un'email presso la quale inviare l'adesione. Però abbiamo pensato anche di rivolgerci ai comuni e raccogliere le firme anche all'interno dei comuni che vorranno ovviamente aderire a questa nostra iniziativa. Ricordiamola l'email? Corea.Molise.live.it La politica adesso con la chiusura del cerchio nei rapporti tra il governo Frattura e Rialzati Molise. Il governatore ha annunciato di aver delegato Vincenzo Cotugno a gestire la programmazione e allo stesso tempo di aver azzerato le altre deleghe in giunta. Ma sentiamo quali sono tutte le novità politiche della giornata nel servizio ancora di Giovanni Minicozzi. Ho chiesto all'ingegnere Cotugno di aiutarmi nella definizione delle politiche della programmazione per i prossimi sei anni chiedendogli di lavorare al mio fianco e devo dire che avere l'ingegnere Cotugno quale validissimo collaboratore mi sembra una consigliere delegato per la programmazione e le politiche di accesso al credito significhi una forza determinata per tutta la coalizione del centro-sinistra. E così dopo un tira e molla durato tre mesi è stato per il momento accantonato il tema del quinto assessore ma la proposta del PD che punta a sistemare tutte le pedine della scacchiera anche con l'incompatibilità tra giunta e consiglio senza costi aggiuntivi verrà ripresa con calma dopo l'estate. Intanto Paolo Frattura ha chiuso egregiamente la partita con rialza di Molise riuscendo a fare quadrare il cerchio assegnando a Cotugno due deleghe importanti. Si è chiuso finalmente un percorso che ha creato qualche problema nella maggioranza. Ma più che problema ha creato delle tensioni impropriamente perché è stato accostato il problema del quinto assessore con la rappresentanza di rialza di Molise. Noi abbiamo sempre sostenuto che non era quello il tema, non era così. Io ho accettato l'invito del Presidente a far parte della squadra di governo perché di quello poi si tratta come consigliere delegato con la programmazione, con le politiche del credito, cose molto molto importanti soprattutto in questo momento particolare terribile della nostra economia accantonando quello che è il discorso del quinto assessore assolutamente. Termo restante che l'allargamento della giunta è sempre stato un tema per i carichi di lavoro e comunque sempre a costo zero per la regione Molise, per la collettività. Da dove partirà con il suo nuovo impegno? Beh, dalla riorganizzazione dell'agenda della programmazione comunitaria 2014-2020 e rivedendo tutti i residui che ancora non sono stati spesi della vecchia programmazione comunitaria. Nelle prossime ore il Presidente riassegnerà le deleghe azzerate ai quattro assessori ma senza stravolgimenti ha precisato Frattura e ne darà altre ad alcuni consiglieri di maggioranza, la cultura a Nico Ioffredi, lo sport a Carmelo Partiglia, la protezione civile a Salvatore Ciocca e il turismo a Domenico Dinunzio. La cronaca giudiziaria sono stati ascoltati gli ultimi testimoni del processo in corte d'assise che vede imputato per omicidio preterintenzionale Carmine Galante, il giovane di Guglionesi. Secondo il PM Luca Venturi avrebbe ucciso lo scorso anno la madre dopo averla picchiata. La donna Maria Antonietta Ciccotti fu ricoverata in ospedale prima di Pasqua del 2012 e morì quattro mesi dopo. Oggi sono stati ascoltati alcuni conoscenti vicini della donna e il medico, il neurologo che l'aveva in cura. Testimonianza a questa attesa dalla difesa rappresentata dall'avvocato Gianfagna Bracone. Il professor Quisquitieri ha infatti parlato della malattia della donna che soffriva di una patologia degenerativa che la portava a cadere a terra, perdendo l'equilibrio e a fenomeni dissociativi che la facevano anche urlare. Il legale di Carmine Galante sostiene l'innocenza del suo assistito. Il 24 luglio è fissata la discussione delle parti con la requisitoria del Pubblico Ministero, la ringa della difesa e dunque la Camera di Consiglio e poi la sentenza. Tre arresti a Campobasso per usura e distorsioni aggravate. Marito e moglie sono finiti in carcere e un'altra donna, la zia, ai domiciliari. Si tratta di Rom. Avevano estorto denaro a commercianti e artigiani con tassi altissimi minacciandoli. Sono stati inchiodati da una denuncia e da intercettazioni. L'inchiesta è coordinata dal sostituto procuratore Fabio Papa e l'operazione è stata eseguita dalla squadra mobile del capoluogo. I dettagli. Approfittavano delle difficoltà di piccoli artigiani e commercianti per spillargli denaro. Almeno sei casi accertati dalla squadra mobile di Campobasso tra il 2011 e il 2013. In tre sono stati arrestati tutti i Rom. Due marito e moglie, Angelo Cirelli, 40 anni, e Silvana Sellini, 37, sono finiti in carcere. Lei ha Benevento. A precedenti specifici un'altra donna, Emilia De Rosa, 65 anni ai domiciliari. Usura e distorsione aggravate le accuse, per le quali il sostituto procuratore Fabio Papa titolare dell'inchiesta già ad aprile aveva chiesto le misure cautelari firmate dal GIP Pepe nelle scorse ore. Inchiesta partita a gennaio dopo la denuncia di una delle vittime dei tre strozzini che si era rivolta in questura. Gli uomini guidati dal dirigente annicchiarico hanno stroncato una storia di usura che era diventata un incubo per cinque persone. Le tecniche usate dai Rom sempre le stesse prestavano somme non altissime, alle quali applicavano però tassi di interesse che andavano dal 100-400% fino al 1000, un giro di affari di almeno 80.000 euro. A loro si rivolgevano persone in difficoltà non solo di Campobasso ma anche di qualche paese della provincia. 5.000 euro prestati dopo qualche mese diventavano 30.000. Da un prestito di 700 euro dopo cinque mesi la richiesta era di 3.500. Qualcun altro ha anche dovuto dare la propria macchina oltre ai soldi. Una donna che aveva un negozio era chiuso ben due volte, era andata dai Rom, ora fa la badante. Nella loro rete è finito anche un disabile, vicende raccontate dal vicecommissario Oriente in conferenza stampa. Tecniche estorsive, se non si saldava il debito partivano le minacce e gli appostamenti sotto casa e in casa chiamate quotidiane. Silvana Sellini a due vittime aveva detto che le avrebbe denunciate perché sosteneva da loro, sarebbe stata violentata da piccola. In altri casi gli usurai dicevano di volere i soldi perché a loro volta dovevano restituirli a terzi. Addirittura alle stesse vittime mentre erano in questura a denunciare sono arrivate le telefonate degli strozzini. Nelle intercettazioni facevano i conti, parlavano liberamente e sono stati inchiodati. Il sostituto Papa e la Mobile hanno messo insieme tutti i tasselli. I poliziotti hanno anche perquisito le case dei tre Rom ma i soldi non sono stati trovati perché sanno come nasconderli, non li depositano. Evitate di cadere nelle mani di questi criminali perché molto spesso il rimedio è peggio del danno a cui si va incontro. Questo lo abbiamo visto attraverso queste indagini e noi supponiamo che ci siano molte altre vittime ancora che hanno dovuto rivolgersi a questi criminali. Chiediamo loro se hanno qualcosa da dire, che vengano da noi e soprattutto per il futuro evitino di entrare in contatto con queste persone. Intanto conferenza regionale delle autorità di pubblica sicurezza in prefettura a Campobasso. Un vertice convocato dal prefetto Francesco Paolo Di Menna nel corso della riunione. Sono state tracciate le linee di indirizzo che le forze di polizia metteranno in campo per contrastare i fenomeni di criminalità sull'intero territorio molisano. Al vertice ha partecipato anche il prefetto di Sernia, oltre ai responsabili regionali e provinciali delle forze dell'ordine, invitati anche il procuratore generale della Corte d'Appello e il procuratore distrettuale antimafia. Ed è stato fissato per domani l'interrogatorio di garanzia del giudice onorario accusato di minaccia aggravata nei confronti del presidente del Tribunale di Sernia, Guido Ghionni. Il professionista e i domiciliari disposti dal GIP di Bari, che ha accolto la richiesta della procura del capologo pugliese, titolare dell'inchiesta dopo la trasmissione degli atti da parte dei colleghi di Sernia. Stando all'accusa, il giudice onorario avrebbe minacciato il presidente del Tribunale nel suo ufficio. Durante la lite sarebbe spuntata anche una pistola, detenuta regolarmente, poi sequestrata dai carabinieri. L'indagato ha respinto le accuse e non ha mai minacciato Ghionni, ha detto nei giorni scorsi, a suo avviso si è trattato soltanto di un malinteso. Esernia si è tenuta la prima riunione del Consiglio Comunale. Tra i punti all'ordine del giorno, la nomina del presidente dell'assise di Palazzo San Francesco. Sentiamo come è andata nel servizio di Sergio Di Vincenzo. 10 schede bianche, 23 voti per Franco Capone, la presidenza va al consigliere Capone. La sua nomina non era scontata, il varo della giunta aveva scontentato più di qualcuno, ma alla fine la maggioranza ha votato compatta e grazie anche a un aiutino da parte della minoranza, Franco Capone è stato eletto presidente del Consiglio Comunale di Isernia. Io interpreto questo risultato non solo come un atto di fiducia nei miei confronti, ma anche e soprattutto come una dimostrazione, una dichiarazione di disponibilità al confronto al dialogo, che penso sia stata già raccolta dalla maggioranza e gli interventi che abbiamo avuto nel dibattito successivo alle dichiarazioni programmatiche del sindaco vanno in questa direzione. I pagati seri, tutti improntati al senso di responsabilità. Superato con facilità il primo scoglio, la seduta del Consiglio Comunale è andata avanti senza grandi scossoni. Tra gli argomenti in agenda, la lettura dei punti programmatici da parte del sindaco Luigi Brasiello. Secondo me la cosa più importante fatta in questi 20 giorni è stato lo sblocco dei pagamenti alle imprese che vandavano del credito nei confronti del comune. E poi c'è stata la questione dell'università, della casa dello studente, che abbiamo subito sbloccato, quel bellissimo complesso che non riusciva a partire e che invece il primo settembre sarà pronto per gli studenti. Queste invece le prossime priorità da affrontare. Il paleolitico, che entro la fine dell'anno sarà fruibile, altro fatto importantissimo. Dopo 20-30 anni di cui se ne è solo parlato, oggi invece lo possiamo utilizzare. Poi l'ultima azione è l'acqua sul furia. Credo che sono due argomenti che stanno molto a cuore ai nostri concittadini. Durante i lavori del Consiglio non è mancata qualche punzecchiatura, in particolare da parte di Gianni Fantozzi per l'opposizione e di Edmondo Angelaccio per la maggioranza, ma sempre con toni pacati. Dal canto proprio, il leader della minoranza, Giacomo D'Apollonio, ha assicurato un'opposizione ferma, ma al tempo stesso costruttiva. Isegni ha bisogno di essere governata, di essere amministrata bene. Insomma, noi faremo la nostra parte. Certo, i personalismi non ci interessano, le poltrone non ci interessano, i giochi di potere non ci interessano. Tutto quello che va invece in direzione della nostra città, della nostra gente, sarà sicuramente cosa gradita da noi. Il Comune di Termoli va verso la gestione pubblica dell'acqua. Nell'ultimo Consiglio Comunale è stato approvato all'unanimità l'Ordine del Giorno che prevede la modifica dello Statuto che riconosce l'acqua come bene comune, privo di rilevanza economica. C'è un anno di tempo per adeguarsi. Emanuela Iorio. Dopo 20 anni l'acqua di Termoli torna pubblica. L'ok definitivo per la nuova gestione del servizio idrico è arrivato nel Consiglio Comunale dove è stata votata all'unanimità la modifica allo Statuto per il riconoscimento dell'acqua come bene comune, privo di rilevanza economica. Termoli dunque seguirà l'esempio di altre città italiane che hanno dato seguito alla volontà popolare espressa con il referendum del 2011. Tra i pionieri in Italia c'è il Comune di Napoli. L'obiettivo è quello di porre l'acqua al di fuori delle regole del commercio e del mercato con un servizio non orientato ai profitti ma che sia efficace, efficiente e aperto al coinvolgimento dei cittadini. È stata un'assise e carica di partecipazione, tanto che è stata aperta anche a due interventi esterni del parroco Don Silvio Piccoli e di Marcella Stumpo della Fondazione Milani. Erano presenti i cittadini e i comitati che hanno lavorato in questi mesi insieme al Comune alla delibera che poi è stata votata tra gli applausi. Era il 1993 quando il Comune firmò il primo contratto con la SIGESA, diventata poi CREA e ora ACEA. Anni in cui non sempre i rapporti sono stati idilliaci, come ha ricordato il consigliere di minoranza Paolo Marinucci, quando ad esempio la società all'improvviso ha deciso di non far pagare più a prezzo di costo il servizio per le strutture pubbliche comunali. Lo stesso sindaco Antonio Di Brino ha ricordato alcuni contenziosi il cui Comune è uscito perdente. Determinante per il grande passo è stata l'imminente scadenza del 30 giugno del contratto con la società privata che si occupa del servizio, società a cui sarà necessario, come ha spiegato il sindaco, prorogare per un anno la convenzione. Il tempo necessario in cui si lavorerà insieme a un comitato tecnico per rendere pubblica la gestione dell'acqua serve una società di diritto pubblico in regione, c'è già, come ha fatto notare Di Brino, è Molise Acque, auspicando però una modifica dello statuto che la renda più trasparente. Parliamo adesso di ferrovie perché restano molte le incognite sul futuro della Sulmona Carpinone. I vertici dell'Abruzzo hanno scritto al vicepresidente dell'Aggiunta del Molise Michele Petraroia perché preoccupati per i costi necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria della linea. Si parla di circa 3 milioni di euro in totale. Dall'Abruzzo è arrivato l'invito a organizzare un vertice congiunto per pianificare azioni comuni. L'obiettivo è valutare la possibilità di riaprire la tratta ferroviaria. Ora andiamo a Vinchiaturo dove la caserma dei carabinieri rischia di chiudere per questioni di inagibilità. Il sindaco Luigi Valente ha deciso di intervenire, lo abbiamo intervistato. La caserma dei carabinieri di Vinchiaturo non è agibile e la struttura dovrà essere sgomberata. Il Comune sta correndo ai ripari per evitare che il Paese possa perdere un servizio strategico per la comunità. La delicata questione è finita sul tavolo del nuovo sindaco Luigi Valente, subito dopo le ultime elezioni del 27 maggio. Per l'amministrazione di Vinchiaturo garantire la presenza sul posto del comando stazione dei carabinieri è una priorità da affrontare subito. Appena insediati come amministrazione io come sindaco abbiamo dovuto subito far fronte a una problematica molto seria che è quella della inagibilità della caserma dei carabinieri perché nel corso del periodo di commissariamento è stata svolta una consulenza tecnica e quindi anche delle prove tecniche che in qualche modo hanno sancito che la caserma dei carabinieri non possiede i requisiti minimi di legge per la stabilità. È un edificio che ha un carattere strategico. Questo significa che la caserma va spostata in altro sito ed è importante per i vinchiaturesi e per il vinchiaturo che i carabinieri continuino ad essere presenti sul territorio anche spostandoli in altro sito in maniera temporanea. Ecco sindaco perché voi avete individuato alcune soluzioni alternative e state dialogando da tempo con la prefettura e con la stessa arma dei carabinieri. Quali sono queste soluzioni? Sì sì ci siamo messi immediatamente all'opera ovviamente per trovare delle soluzioni che potessero far rimanere la caserma qui e quindi dare maggiore sicurezza sia ai militari dell'arma che alle loro famiglie. Ci siamo mossi, abbiamo contattato i vertici dell'arma, ne abbiamo parlato con il signor Prefetto anzi ringrazio pubblicamente per la sensibilità e la disponibilità che hanno avuto su questo problema sia il signor Prefetto, il comandante regionale e il comandante provinciale dell'arma dei carabinieri. Abbiamo individuato almeno tre siti che hanno tutte le caratteristiche per poter ospitare la caserma dei carabinieri qui a Vinchiaturo e quindi siamo fiduciosi che in qualche modo possiamo risolvere questo problema che sinceramente è un problema serio perché ripeto i carabinieri e l'arma qui a Vinchiaturo sono un'istituzione da tanti anni e danno un ruolo fondamentale e insostituibile per il paese. Ora vi mostriamo le immagini di un incidente per fortuna senza conseguenze gravi che si è verificato a Venafro sul lungo Rava. Per cause che accerteranno i carabinieri un pensionato ha perso il controllo della sua Renault Modus che è finita nel torrente, a bordo c'era anche la moglie. Le due persone coinvolte nell'incidente sono state accompagnate al Santissimo Rosario per accertamenti ma le loro condizioni non sono preoccupanti. Dopo l'ennesimo incidente sul lungo Rava si registrano le proteste dei Venafrani chiedono interventi urgenti per mettere in sicurezza un tratto di strada ritenuto molto pericoloso. Cultura politica e democrazia, i temi al centro dell'incontro organizzato dall'Università del Molise ospite della manifestazione, Agnese Moro, figlia di Aldo, che ha portato la sua testimonianza. Sentiamo Marcella Tamburello. Il mondo intero sta vivendo una serie di problemi difficili da superare. La stessa democrazia sembra essere minata da una crisi profonda, oggi insuperabile. Proprio di questo si è discusso all'Università del Molise durante l'incontro dal titolo Cultura politica e senso dello Stato al tempo della Repubblica dei Partiti, limiti, caratteri e valori. Ospite della giornata, Agnese Moro, figlia dello statista e politico Aldo, assassinato il 9 maggio 1978 dalle Brigate Rosse dopo 55 giorni di prigionia. Un incontro, quello che si è svolto nell'Aula del Dipartimento Giuridico di Campobasso, organizzato dall'Università, sempre attenta a tematiche sensibili, in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati, il Comitato per i Diritti Umani e l'uguaglianza di genere e la consigliera di parità della Regione Molise. Si cerca di riflettere su come si possa fare della buona politica, si cerca di farlo con pacatezza, con attenzione, utilizzando l'esperienza di una persona speciale come Agnese Moro, figlia di una persona speciale come Aldo Moro, ma soprattutto, mi fermo su Agnese Moro, una persona che continua a dare testimonianza di sé nell'impegno quotidiano. Durante l'incontro si è affrontata anche la questione della presenza delle donne in politica, un tema vecchio, ma del quale bisogna ancora discutere. Agnese Moro, poi, nel suo intervento, ha voluto ricordare il papà, ma soprattutto ha sottolineato l'importanza della democrazia e la speranza di riuscire ad avere un giorno giustizia e pace per tutti. Penso che sia un sogno quello di vivere in un paese giusto, in un mondo pacifico, che sia un sogno che ancora ci accompagna. Anche se le voci grosse parlano di tutte altre cose, di monete, di soldi, io credo che nel cuore delle persone ci sia ancora questa speranza di poter vivere in un modo diverso. Aldo Moro, un grande testimone che oggi va studiato, va ricordato. Io penso che sia una persona che ha cercato di fare del suo meglio, era una persona intelligente, molto profonda. Sicuramente possiamo trovare delle cose importanti e consolanti in quello che ha scritto e detto. L'ordine regionale dei giornalisti ha espresso solidarietà ai colleghi dei fatti del nuovo Molise per la fase attuale di crisi aziendale che ha determinato la mancata uscita in edicola del quotidiano. L'ordine ha auspicato che l'azienda editrice riesca a risolvere nel più breve tempo possibile le difficoltà che hanno portato a questa decisione. Si pone ancora di più la necessità di accelerare il varo della legge sull'editoria, dicono dall'ordine, per garantire la pluralità di informazione e per dare a tutte le società editrici legalmente riconosciute gli stessi mezzi per porsi in maniera competitiva sul mercato regionale. Dopo il via libera del governo, la Camera di Commercio di Isernia è di nuovo al lavoro per rilanciare il servizio di conciliazione che permette di risolvere le controversie in tempi rapidi, a prezzi contenuti e senza dover ricorrere ai tribunali. Sentiamo. Con il decreto del fare varato dal governo Letta, la mediazione diventa nuovamente obbligatoria. Significa che prima di scegliere la strada dei tribunali si dovrà tentare di risolvere le proprie controversie affidandosi agli organismi di conciliazione. In provincia di Isernia questo servizio lo offre anche la Camera di Commercio. La Camera di Commercio è un po' sulla conciliazione perché comunque rappresenta un po' tutte le imprese del territorio. È una parte istituzionale che può rappresentare un po' tutti oltre alle imprese e mette un po' a disposizione questo sistema di conciliazione che poi sono le dici che vengono tra vari soggetti. Noi vediamo sul campo dell'assicurazione, sul campo dei condomini, ci sono tante cose che sono importanti e si riescono a risolvere in breve tempo facendo la conciliazione qui in Camera di Commercio. Grazie a un'intesa con la Camera di Commercio dell'Aquila l'ente camerale Isernino si occuperà anche dei comuni dell'Alto Sangro. Le adesioni non dovrebbero mancare visto che questo servizio offre molti vantaggi. La procedura di mediazione è una procedura snella che costa molto meno e quindi deflaziona il procedimento civile, giudiziario. Quindi, economicità in termini di coste, snellezza della procedura. Ovviamente consigliamo la procedura davanti agli organismi di conciliazione dalla Camera di Commercio. La Camera di Commercio, che essendo un ente pubblico, è imparziale, è un organo della pubblica amministrazione, ha un elenco di mediatore qualificati e aggiornati a servizio degli utenti. Noi abbiamo un elenco di circa 30 mediatori. Parliamo di musica. Tappa zero a Campobasso del tour estivo di Daniele Silvestri, che ha proposto brani storici, grandi successi, ma anche inediti. Vediamo. Il concerto che vedrete probabilmente non lo vedrà più nessun altro, perché inevitabilmente vi useremo come cavie in qualche modo. Ci farete capire se quello che facciamo funziona o no, che cosa dobbiamo correggere. Lo capiremo in parte insieme questa sera. Daniele Silvestri ha spiegato così il senso della tappa a Campobassana del suo tour prodotto da Cose di Musica. La tappa zero con la quale il cantautore romano ha inaugurato la serie di concerti in giro per l'Italia. Il 29 giugno si partirà da Brindisi per chiudere a Napoli il 21 settembre. Il bisogno di rock il titolo come una delle sue canzoni più recenti. Un concerto gratuito, quello in Molise, organizzato dall'Associazione Culturale Lala. Silvestri si è esibito con la sua band, eseguendo brani storici riverenti, come quando ha preso il megafono. Brani impegnati e anche dolci, rock e anche blues, come quando ha imbracciato la chitarra e ha suonato e cantato un pezzo degli anni 90, eseguito solo un'altra volta live. Poi i brani storici, l'ultima di Sanremo e quelle canzoni che hanno scalato le classifiche ed entusiasmato il pubblico che nonostante l'aria pungente ha partecipato con calore. Molte le novità del tour in cui Silvestri si è messo in gioco con una formazione allargata e mutante, così la definita che si arricchirà di musicisti di spessore del panorama musicale italiano e ospiti. Come Silvestri, ognuno capace di cambiare strumento durante il concerto e lui ogni volta modifica l'arrangiamento dei brani attingendo dal repertorio di una carriera ventennale. Anche a Campobasso Silvestri ha proposto brani inediti come lo scioglilingua finale dal titolo impronunciabile Stizziscitici. La tappa zero di Daniele Silvestri è stata resa possibile grazie anche alla disponibilità della regione, della Fondazione Molise Cultura. La provincia e l'università, il ricavato dei prodotti venduti negli stand enogastronomici è stato devoluto in beneficenza. E tutto termina qui anche l'ultima edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito e arrivederci. Grazie. 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 Grazie.